Musica Carissimi erunesi, sono delegati, candidato sindaco della lista a Eruno e Zurro, progetto comune del comune di Eruno. Io rappresento un nuovo gruppo, una nuova lista che si impegnerà con un chiaro obiettivo a riportare il nostro comune tra gli erunesi. La nostra lista si presenta come un nuovo soggetto, un gruppo aperto, un laboratorio di idee e progetti in cui le diverse storie, politiche, culturali e umani di tutti i candidati diventano il principale riferimento per un impegno amministrativo locale a servizio del bene comune. Il gruppo è composto da uomini con chiara esperienza amministrativa e anche nell'associazionismo del paese e da giovani e da donne invece al loro primo impegno politico. Però tutti condividono la positività di questo progetto e sono tutti pronti in caso di vittoria a accettare questa nuova sfida per il futuro di Eruno. È una sfida che mi coinvolge in prima persona nel dare il mio tempo di oggi per costruire l'Eruno di domani. È una grande responsabilità, in parte è sostenuta dall'impegno di tutte queste persone e di tutto il gruppo, in parte è anche spinta dalla passione che io nutro per il nostro paese, sento per Eruno, passione che ho visto in tutti i candidati della lista. Noi tutti ci sentiamo orgogliosi di essere Erunesi ed è per questo che vogliamo dare il nostro contributo, anche se piccolo, nella convenzione che sono uniti noi con voi daremo veramente un volto nuovo al nostro paese, ad Eruno. Grazie per la vostra fiducia, grazie per il vostro voto.